Ciao a tutti, nuovo video. Oggi vi volevo mostrare il pacco che mi è arrivato del mio secondo ordine da Faberlic. Questo è il cartone e vi mostro subito quello che ho ordinato. Allora, devo dire che Faberlic invie i prodotti imballati davvero molto bene nelle diverse borsettine. Io ve ne mostro una, poi le ho già tolte per essere un attimino più facilitata nel girare il video. Ma comunque devo dire che sono sempre imballati molto bene. Allora, vi mostro il primo prodotto che ho acquistato, che sono queste palline eliminaudori da utilizzare nel frigorifero. Sto terminando il mio vetto, quindi quando l'avrò terminato manca poco, metterò in uso queste e vi farò sapere come ci sono trovata. Fatemi sapere se vi interessa sapere i diversi codici dei prodotti in modo tale che poi io ve li scrivo giù sotto. Poi, altro prodotto che ho acquistato per me è questo detergente per il bagno universale da 500 ml. La profumazione è molto neutra, non ha una profumazione ben definita. Ho terminato il mio detersivo, quindi lo metterò in uso già da domani. E anche di questo vi farò sapere come ci sono trovata. Ne ho sentito parlare molto bene, ma i detersivi non li ho ancora provati. Ho acquistato un abborbidente, ma non ho ancora terminato il mio. A giorni lo terminerò nell'ordine precedente e lo metterò in uso a breve anche quello. Poi, all'interno c'è la fatturina con l'elenco dei vari prodotti. Poi, mi sono stati chiesti due spray deodoranti per le scarpe rinfrescanti da 150 ml. Poi, mi è stata chiesta quest'acqua micelare per pelli grassi e miste della linea Biomica, da 300 ml. Poi, mi è stato ordinato questo shampoo e balsamo 2 in 1 della linea Botanica. Allora, rafforzamento e lucentezza per tutti i tipi di capelli. Ho acquistato anche questo prodotto, ma nella campagna precedente c'era il formato più piccolo da 200, invece questo è da 400. Ma non l'ho ancora utilizzato, quindi vi farò sapere anche io come ci sono trovata. Poi, altro prodotto è questo shampoo equilibrio e freschezza, sempre della linea Botanica, da 400 ml, quindi formato più grande. Credo che questo sia indicato per i capelli grassi. Poi, altri due prodotti che mi sono stati ordinati insieme, perché acquistando due prodotti della stessa linea Vitamania, i prodotti venivano a costare qualcosina meno. Quindi, mi hanno ordinato questo gel vitaminico mango e papaya da 200 ml, e questo sempre gel doccia al mirtillo e fragola, sempre da 200 ml. Per me ho acquistato, visto appunto che c'era questa possibilità di pagarli qualcosina meno, ho preso questa miscela vitaminica, quindi un'acqua rinfrescante per il corpo, al mango e papaya, che è buonissima. Come potete vedere, io l'ho già utilizzata, non so se riuscite a vedere bene, però il pacco è arrivato l'altro ieri, quindi l'ho già messa in borsa e devo dire che ha una profumazione che mi piace tantissimo. Non appiccica per niente, la profumazione è delicata, ma piacevole, non stufa, non è che se continuate a mettere dopo un po' vi stufa. Per quanto mi riguarda, io non smetterei più di metterla. E è anche rinfrescante, quindi io la tengo in borsa e me la spruzzo quando voglio di darmi una rinfrescata, o di andare a ritoccare un attimino il profumo, perché magari si è attenuato giustamente lavorando, eccetera, eccetera. Poi, anche io ho acquistato questo gel doccia vitaminico sempre mango e papaya da 200 ml, che però come potete vedere non ho ancora aperto. Faberlic mette sempre comunque una protezione anche sui vari tappettini, in modo tale che durante il trasporto non si aprano. Poi, sempre per me, ho acquistato questo deodorante per pelli sensibili. Se non ricordo male, la profumazione dovrebbe essere lino o qualcosa del genere. È quello non antitraspirante, sono davvero curiosa di provarlo. Qui dice protezione 24 ore, vedremo. Poi, sempre per me, ho acquistato questo sapone da cucina che elimina gli odori con il profumo di fiori primaverili da 300 ml. L'ho acquistato perché attualmente ho in uso un sapone per le mani liquido, che avevo acquistato in una ricarica non di Faberlic, se non ricordo di che marca, però è davvero troppo forte e non mi piace da tenere in cucina, quindi siccome sto terminando quello del bagno, sposterò quello che ho in cucina in bagno e utilizzerò questo, che sarà sicuramente più delicato. Poi, mi hanno ordinato questo rossetto semi-matte della linea Velvet Kiss, nella colorazione, adesso qua mi dice solo il numero, che è il 405,76, ora voi non lo vedete perché lei non mette a fuoco, però c'è scritto Velvet Kiss semi-matte lipstick. Non ve lo apro perché non è per me, quindi preferisco non aprirlo. Poi, ho ordinato dei campioncini di profumo che voglio regalare, sono sia profumazioni maschili che femminili, eccoli qui, non so, mi scivono dalle mani, però sono questi, ne manca ancora uno. Poi, avendo fatto, essendomi iscritte in Faberlic, se vi interessa comunque sapere, bene, io ora ve lo accenno, comunque eventualmente mi contattate e ve lo spiego, se voi vi iscrivete Faberlic avete subito il 20% di sconto. In più c'è sempre un regalo di benvenuto, quindi avendo fatto un ordine, adesso non ricordo di quanto doveva essere la cifra, però avendo fatto un ordine minimo, loro mi hanno omaggiato del regalo di benvenuto, che adesso vi mostro, che sono questi tre prodotti, che sono una crema, adesso ve l'apro perché nella scatolina, vediamo dove c'è scritto, non c'è scritto niente, c'è scritto tutto in russo, comunque una crema viso protezione SPF 30, una crema latte corpo SPF 20, e un mascara Sport Eplage New Generation Waterproof Mascara Panoramic Volume, se così si pronuncia, quindi mascara waterproof tono nero, che vi mostro subito, che tra l'altro non ho su adesso, ma l'ho già iniziato ad utilizzare, che ha questo scovolino, ok, devo dire che mi piace, mi piace l'effetto finale, non mi fa delle ciglia troppo appiccicate, eccetera, mi piace, mi piace molto, quindi questo è il regalo di benvenuto, che ho ricevuto, poi altri due prodotti che vi mostro, sono questo smacchiatore in stick, che ho acquistato per me, che mi incuriosiva molto, è parecchio che dico, si lo compro, cioè compro uno smacchiatore in stick, ma alla fine non lo compro mai, compro sempre liquidi, e sono davvero curiosa di provarlo, quindi ci rimuove ketchup, vino, tè, olio, eccetera, eccetera, vi farò sapere come mi ci sono trovata, perché non ne ho mai utilizzato uno, e ultimo prodotto, è questa, crema piedi nutriente, della linea Epistip, se così si pronuncia, da 70 ml, che hanno, è una linea che ha sia cremine per i piedi, che per le mani, con queste fantasie davvero molto molto carine, e poi vi mostro il catalogo, che mi è arrivato, della campagna che è in vigore in questo momento, che va dal 5 luglio al 25 luglio, il regalo di benvenuto, perché si iscrive e fa un ordine minimo di 33,99 euro, sono questi due profumi, nell'ordine poi successivo, di questa fragranza, si chiama Donna Felice Uomo Felice, prezzo di catalogo 32,98 euro, ok, con questo io ho finito di farvi vedere, cosa mi è arrivato in questo ordine, come avevo detto all'inizio, se volete informazioni, o volete sapere i vari codici di prodotti, me lo scrivete, io vi saluto, e ci vediamo al prossimo video, ciao! Ciao!